Da oggi 28 maggio e fino al 25 giugno allo spazio Loc di Capodorlando andrà in scena la mostra Agatirno Illustrata. L'iniziativa promossa dall'assessorato alla cultura guidato da Giacomo Miracola vede il coinvolgimento di una giovane e talentuosa illustratrice orlandina, Simona Randazzo, che ha rielaborato in chiave artistica contemporanea la storia Agatirno raccontata ai bambini, ideata e scritta dallo storico orlandino Franco Ingrillì. Sulla scia del progetto che ho iniziato pre-Covid con lo storico Franco Ingrillì, partendo tutto da una sua idea su questo libro che ha scritto sugli origini di Capodorlando, documentato benissimo attraverso la creazione e la pubblicazione di un piccolo libretto che è stato poi distribuito nelle scuole primarie, poi riflettendo sui miglioramenti che di solito si possono fare su una progettualità di questo tipo, ho pensato di illustrarlo per i bambini, per i ragazzi, anche se l'illustrazione adesso uno la deve dare a 360 gradi, quindi riguarda adulti e bambini. Dato che l'autore era orlandino, ci tenevo che anche l'illustratrice o l'illustratore fosse orlandina, e poi conoscendo Simona Randazzo, conoscendo soprattutto la qualità altissima del suo lavoro, mi è sembrata la persona adatta per descrivere e raccontare quella che è la nostra storia. Già il progetto era stato fatto, era un piccolo libricino un po' più con delle reference del passato, lo scopo è stato quello di renderlo un pochino più contemporaneo, quindi abbiamo realizzato queste illustrazioni per bambini, abbiamo fatto questo aggatirno raccontato ai bambini. Che cosa ti ha ispirato a disegnare i personaggi in questo modo? Mi hanno fatto vedere moltissime referenze, come ho detto prima, tra la base o anche i personaggi come li hanno rappresentati all'interno delle monete, da lì poi sono tutti i personaggi che sono stati approvati da Monica, da Franco, per renderlo più attinente alla storia del passato possibile. Diciamo che il mio compito è stato quello prima di entrare io all'interno della storia, e successivamente riuscire a riportarla all'interno delle tavole per riportare a quei tempi chiunque le guardasse.